Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo stabile sulla penisola seppur con qualche acquazzone. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 16 giugno. Dubbi sparsi al mattino specie al nord ovest e lungo le regioni del medio adriatico ma con tempo stabile. Ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio possibilità di acquazzoni o temporali sparsi su Alpi e Appennino centro-settenzionale. Tempo più asciutto altrove con ampi spazi di sereno specie al sud. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con reside piogge solo sulle Alpi ma in rapido esaurimento. Temperature minime e massime stazionari o in generale rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Italiano.